L'anno scorso l'8208 Lighting Design Festival è piaciuto subito, è proprio stata una di quelle manifestazioni rimaste nel ricordo dei comaschi, tant'è che alla fine del periodo in cui alcune delle località comasche, alcune delle zone comasche illuminate da queste installazioni luminose è terminato, hanno chiesto che rimanessero perché Como deve essere la città della luce non soltanto in occasione di questi bellissimi festival, il festival della luce 8208 Lighting Festival, ma un po' per tutto l'anno. Vabbè comunque era un numero zero, così almeno Matteo Montini che è il product manager di questo festival l'ha definito e ora siamo al numero uno, tutto il mese di novembre con il festival che prende il nome, ricordiamolo, da un meteorite dedicato a Madel Sandro Volta. Bravissimo, ok, infatti mi allaccio a quello che diceva Lorenzo e diciamo lo step in più che quest'anno il festival vuole fare è di acquisire due opere, due installazioni luminose per far sì che ci sia anche una veicolazione del festival in altri paesi, in altre città internazionali, quindi o anche riproporlo in altri momenti dell'anno a Como. Quindi questa è una novità diciamo, l'acquisizione di determinate opere artistiche, l'altra novità è la creazione di una rete di festival nazionale che hanno un po' come mission la luce, l'arte e il design. Quindi abbiamo creato questa rete con Firenze, col Flight Festival che ci sarà dall'8 dicembre all'8 gennaio e con l'albero bello Light Festival che si è appena concluso ed è stato diciamo un grosso successo. Un calendario luminoso da sud a nord dell'Italia in questo caso, tutti all'insegno appunto della luce. Non dimentichiamo che noi siamo appunto la città di Alessandro Volta e anche se tutti lo identificano con la semplice pila ma da lì è partita poi anche la luce per cui noi possiamo veramente freggiarci di questo titolo Città della Luce. Allora hai detto bene che ci saranno delle opere che poi diventeranno proprietà appunto del festival e praticamente della città di Como e queste due installazioni, queste due opere come le avete fatte? Le avete commissionate? Allora esatto, c'è stato un lavoro di coproduzione e coprogettazione con gli artisti. Abbiamo contattato Max Huberti, diciamo uno storico, un pioniere della luce, dell'utilizzo del neon e ha creato Casa Luce, questa installazione luminosa a 4 metri per 4, quindi imponente, con dei profili luminosi. Ci è sembrata da subito un'opera stupenda, adatta anche per Como e come abbiamo appena svelato la porteremo a febbraio 2018 in Sud Corea in occasione delle Olimpiadi. Quindi è stato già il primo spunto, la prima operazione di esportare qualcosa che si produce a Como. Infatti vorrei mettere anche un po' in evidenza l'idea della produzione, produrre qualcosa in città per poi esportarlo penso che sia anche una direzione, una visione futura che deve avere non solo nel campo della luce ma nel campo dell'arte a 360 gradi. Comunque il nostro territorio è fonte di ispirazione, quindi come ha ispirato un Manzoni perché non può ispirare o dare suggestioni ad altri artisti che producono in zona e poi esportano. Sicuramente questa è una bellissima filosofia che ha questo festival dentro di non acquistare prodotti artistici che esistono nel mercato dell'arte ma invece di confezionarli dall'inizio alla fine e questo implica sicuramente uno sforzo superiore e notevole, non soltanto in termini economici e di tempo ma anche di creatività e per fortuna, devo dire la verità, questo gruppo di giovani che sta un po' alla base di questo festival come di altre manifestazioni a Como sicuramente non scarseggia in creatività. Questo è un complimentone. Esatto, grazie Lorenzo. Un'altra peculiarità del festival è che il team è tutto Under 35. Questo non per dire riempirsi sempre la parola del nome dei giovani però per far capire che anche ci sono dei talenti da valorizzare. Quindi quest'anno ci sarà come direttore artistico Lorenzo Guzzini architetto e artista, quindi mi è sembrata la figura più adatta che va un po' a conciliare l'aspetto architetturale, quindi urbano della città con l'aspetto più artistico e di design. Quindi sa, come dire, mettere anche in dialogo la città con un'opera d'arte. E da lì appunto poi vedremo il risultato. Risultato che dal 4 di novembre illuminerà alcuni punti della città. Io non so se puoi già dirci quali punti perché non so che tante cose ve le tenete un po' come sorpresa, no? Esatto, un po' l'effetto è che il turista, il cittadino giri per la città e si trovi magicamente anche un effetto un po' di sorpresa a queste installazioni. Allora io consiglio di passare dal 4 al 24 novembre ai giardini del Tempio Voltiano che ci saranno due installazioni in Darsena come l'anno scorso, quindi è stata un po' una location che ci è piaciuta e abbiamo voluto riconfermare e Porta Torre, quindi Porta Torre anche lì quando sceglievamo le location abbiamo pensato Porta Torre comunque porta con sé anche una determinata eredità dall'anno scorso, molto importante. Quindi abbiamo pensato anche lì una grossa installazione interattiva dove i cittadini possono anche riuscire a manipolare la luce con la propria voce. Non vi svelo nient'altro. Ecco non svelarci molto perché appunto noi vogliamo un po' mantenere anche questo fascino della scoperta di queste installazioni luminose. Però puoi raccontarci invece una serie di cose perché il festival non si limita a installare a Como delle opere d'arte con la luce dentro ma è anche occasione per dei convegni scientifici, dei laboratori per i ragazzi, una mostra e dei momenti anche di aggregazione ludici che non fanno mai male perché l'arte al giorno d'oggi bisogna un po' anche sdoganarla insieme al divertimento. Esatto, bravissimo Lorenzo. Ci troviamo in perfetta collimazione. Appunto quello che dicevi è che l'arte è adesso diventata la cultura molto più liquida quindi non ci sono più dei confini, delle barriere ben definite. Quindi la programmazione parte dal 4 novembre con l'inaugurazione del festival, l'inaugurazione della mostra Black Light Art a cura della fondazione Agrifoglio dove un ciclo continuo di luce niera, bianca e buio andranno a rendere delle opere continuamente con colori differenti. In Pinacoteca. In Pinacoteca, giusto. L'11 novembre al Teatro Sociale ci sarà un po' una riconfigurazione del teatro dove il pubblico sarà sul palco e l'artista sarà in platea. Questo anche per riuscire a creare un rapporto diverso con gli spazi teatrali. Ci sarà uno show di Feldemerder, avrà 21 barre led disposte in maniera ortogonale sulla platea e giocherà con suoni e luce. Dopodiché il 18 novembre presso l'Accademia Galli ci sarà una giornata di confronto, quindi di divulgazione scientifica e non solo, quindi una commissione tra arte e sviluppo tecnologico, quindi come queste due direzioni si possono contaminare e creare scenari sempre più diversi. Sempre il 18 novembre alla sera, dalle 21 presso Villa del Grumello, riproporremo con YOLO l'installazione LIMEN in una maniera diversa, quindi site specific per le serre del Grumello. Anche lì è uno show molto particolare da venire tramite registrazione sul sito. E diciamo che questo è un po' il... E penso che c'è un po' il... Tanto che poi il programma ovviamente lo trovate ben sviluppato sia sul sito del festival, www.8208.it, sia soprattutto anche attraverso i social, la pagina Facebook. Ricordiamo comunque una cosa molto importante che fa sempre parte un po' di quello che è la preparazione di un evento come questo. Già la settimana scorsa il festival è iniziato con un laboratorio di studenti che venivano da Barcellona, no? Bravissimo, sì esatto. È stata diciamo una sperimentazione di residenza artistica e laboratoriale, nel senso abbiamo creato una collaborazione con Ostello Bello e IED Barcellona e Como, cercando di creare un team di ragazzi che vivessero nello stesso posto, che era anche l'area di progetto l'Ostello Bello, con l'artista. Quindi l'artista doveva immaginare, concepire con gli studenti l'opera d'arte. Quindi c'è stato anche uno scambio tra studenti e artista. E quindi questo artista è Alessandro Lupi, di origine italiana, ma trasferito a Berlino da 15 anni. E diciamo che è stata una bellissima esperienza, sia dal punto di vista per gli studenti, e sia anche per l'artista, che comunque ha detto ho ricevuto un sacco di stimoli nuove, di idee. Comunque gli studenti sono molto più freschi, dinamici, e quindi è stato bello per entrambe le parti. Accenderemo anche il 4 novembre questa installazione presso l'Ostello Bello. Presso l'Ostello Bello. Insomma il 4 novembre si accende tutto. E si accendono anche i monumenti di Como con una luce blu, che serve giusto per ricordare che a Como sta succedendo qualche cosa. Esatto. Quindi l'idea col progetto nel blu dipinto di blu è di colorare determinati monumenti all'interno della città, così che un po' tutta la città parli della luce, quindi dell'8208. Quindi questo è un po' anche il valore aggiunto che il festival vuole dare alla città quest'anno. Bene, insomma io penso che sia veramente una bellissima manifestazione nata a Como soltanto da un anno. Questo è il secondo e che può richiamare anche tantissimi giovani, tanto pubblico anche qui dalla Svizzera, da tutta la Lombardia. E vi faccio naturalmente un grosso in bocca al lupo per la riuscita della manifestazione. Grazie mille a Matteo. Grazie mille a Lorenzo e a tutta la radio, come sempre.